Siamo 40 insieme, 37 della tabellade e 3 della sfilata. Sono molto felice perché ci ritroviamo in questa commemorazione dei 90 anni della presenza e allo stesso tempo più alla testa delle canzze. E mi ringrazio per tutta la preparazione che avete fatto per questa mia visita. E nella comunità che ogni sorella giorno dopo giorno gara sua vita nella missione. Dunque, in questo senso, la vera vita dell'Istituto è nella comunità locale. It is in this sense, the true life of the Institute is in the local community. According to you, what are the other reasons why we are finding vocational growth difficult today in your experience? Grazie mille madre. Arrivederci per ora. Grazie mille.